Buongiorno a tutti, spero che abbiate per un caffè bello forte stamattina, perché ci tuffiamo in un capitolo abbastanza tosto del corso, che è quello sulla ricorsione, e un pochino anche sulla complessità che è in qualche modo un argomento collegato alla ricorsione. Io ho caricato delle slide sulla ricorsione, sulla complessità sul sito, stamattina concedetemi di saltare un po' avanti e indietro per cercare di approcciarlo da un punto di vista anche un pochino più pratico e operativo, che non una sequenza di slide che risulta di essere noiose e a volte poco pratica, visto che abbiamo tutti i PC possiamo provare a lanciarci in questo senso. Il tema sembra ampio, guardando questo indice, in realtà i concetti principali sulla ricorsione li risolviamo probabilmente in slide, tutto il resto sono una serie di esempi e soprattutto una serie di esempi che faremo per imparare un pochino a pensare in modo ricorsivo. Chi ce lo fa fare innanzitutto? Ce lo fa fare il desiderio di riuscire a risolvere certe tipologie di classi di problemi che a prima vista sembrano complicatissimi, perché nel senso che uno non sa da che parte approcciarli con un metodo di soluzione sistematico. Sistematico significa che quando io devo risolvere un problema e le soluzioni possibili sono tantissime e a priori non ho dei criteri per stabilire quali siano le soluzioni migliori di altre in modo analitico, allora devo enumerare, contare, provare altre soluzioni o perlomeno tutto un sottoinsieme di soluzioni ragionevoli, potenziali e poi vedere quale di queste è la migliore oppure se ci sia almeno una che mi soddisfa. Pensate a un problema classico che noi non faremo perché è troppo complicato, il problema è di fare l'orario delle lezioni o degli appelli, quello che volete, ma le lezioni sono più complicate. Voi avete un certo numero fisso di aule, un certo numero definito di corsi, delle lezioni di non sovrapposizione, nel senso che due corsi non dovrebbero essere nella stessa aula, dei vincoli in più del tipo non possiamo fare 12 ore di lezioni in un giorno e niente tutto il resto della settimana, etc. Quindi se voi immaginate di prendere 50 aule, moltiplicate per 5 giorni, moltiplicate per 6, quante sono 7 slot orari per ogni giorno e moltiplicate per tutti i corsi che ci sono e vedete quante possibilità avete di fronte. Bisogna trovarne almeno una che soddisfi una serie di vincoli e possibilmente, visto che ce ne sarà più di una che soddisfarà una serie di vincoli, poi c'è anche il vincolo sulla capienza ovviamente, c'è un determinato corso, devi andare in un'aula che abbia una capienza maggiore o uguale al numero di persone che sono iscritte a quel corso, grosso modo tenendo conto di un po' di fattori. Quindi avrò moltissime soluzioni possibili, diciamo così, ho moltissime combinazioni alla cieca in cui potrei mettere i corsi alla cieca in questa ipotetica lavagna enorme, di queste molte sono da buttare, non sono accettabili, perché magari io metto un corso del primo anno in un'auletta da 30 posti e non ci stanno 300 persone in un'auletta da 30 posti, quindi quella lì è da buttare, se ho provato a pensarci a quella soluzione forse ho sbagliato addirittura a pensarci, non dovevo neanche pensarla, però come faccio a saperlo prima? Quindi ho uno spazio di soluzioni enorme, molte sono da buttare, tra quelle che non sono da buttare, cioè quelle che soddisfano tutti i vincoli, alcune saranno migliori, altre peggiori. E quindi tra tutte quelle accettabili dovrei trovare la più migliore dei migliori, posso dirlo? Perché non voglio dire la parola giusta che sarebbe l'ottimo, quella che massimizza la funzione obiettivo. Ecco questo è ciò che dovremmo fare, da che parte partire non lo sappiamo, nel senso che raccontare la parola è facile dire questo va bene, questo non va bene, ma prova a generarlo, prova ad arrivarci. Questo su tutta una serie di problemi di ricerca o di ottimizzazione, il problema sembra chiaro, però non è così evidente un algoritmo per poterci arrivare, non basta fare una query, non basta memorizzare i dati e poi cosa. Quindi in molti problemi una soluzione è quella della, soluzione non è detto che sia la più efficiente, non è detto che sia la più veloce, però è quella dell'esplorazione sistematica. Cioè proviamo, inventiamoci un metodo per generare tutte le soluzioni possibili, cerchiamo di evitare quelle che sarebbero da buttare via o al massimo le generiamo e poi le buttiamo via e sapendole generare tutte poi potremo scegliere quella migliore. Il problema non è mai scegliere quella migliore perché basta calcolare una funzione di costo, una funzione obiettivo è maggiore o minore, questo è meglio dell'altro e poi mai è sicuro di non dimenticare dei pezzi. Quindi questo è l'obiettivo principale per cui ci occupiamo della ricorsione, perché ci dà un metodo semplice, una volta che l'abbiamo digerito diventa semplice, con poco codice, di riuscire a enumerare, a visitare spazi anche complicati di soluzioni, complicati molto ampi. Poi in realtà c'è un altro sottocaso in cui ci sono alcuni tipi di strutture dati, faremo poi gli alberi e i grafi subito dopo, che sono intrinsecamente ricorsive dentro e allora per forza ci vuole un argomento ricorsivo per poterla gestire, ma questo se vogliamo è più facile, se vogliamo una necessità tecnica, noi lo studiamo perché ci piace risolvere, imparare a risolvere problemi che a prima vista non sapremo da dove partire. La definizione è molto semplice, probabilmente l'avete già sentita, un metodo, una procedura, una funzione, una classe, un programma, mettete come volete come soggetto, è ricorsivo, si dice ricorsivo, quando pensiamo a un metodo di una funzione, all'interno del corpo del metodo, quindi è una certa classe col metodo pippo, all'interno del corpo del metodo pippo compare una chiamata al metodo stesso, quindi è normale che dentro un metodo io chiami altri metodi, ecco non è così normale che all'interno di un metodo io chiami di nuovo il metodo stesso, sullo stesso oggetto, perché io potrei chiamare lo stesso metodo su un altro oggetto, però normalmente lo faccio sullo stesso oggetto, quindi vuol dire che mentre eseguo un metodo io devo, per ottenere il risultato che deve calcolare quel metodo, ho bisogno di chiamare lo stesso metodo che per ottenere il suo risultato dovrà richiamare lo stesso metodo, che per ottenere lo stesso risultato dovrà chiamare lo stesso metodo e così via, voi dite ma così è fatto un casino, non hai risolto il problema, è fatto un casino se non fai attenzione sicuramente, perché ci serve questo? Poi in realtà la ricorsione può essere diretta o anche indiretta, nel senso che il metodo A chiama il metodo B, il metodo B chiama il metodo C e poi il metodo C torna a chiamare il metodo A, non cambia nulla, nel senso che non è semplicemente dentro il corpo del mio metodo, ma di un altro che ho chiamato, concettualmente non cambia nulla, quindi sembra subito una cosa strana perché dici ma se faccio così non finisco mai, in realtà dovremmo imparare che una delle prime cose da gestire è riuscire a capire quando la ricorsione deve andare avanti e quando deve fermarsi, quindi questo è un metodo se vogliamo una definizione strana ma semplice, un esempio da non copiare, immaginiamo di dover calcolare il fattoriale di un numero, sappiamo tutti cos'è, allora torniamo alla definizione di fattoriale che dice che il fattoriale di 0 per definizione 1 e fattoriale di n, qualunque sia n maggiore o uguale a 1, quindi escluso per il fattoriale di n meno 1, quindi 7 fattoriale uguale a 7 per 6 fattoriale, vabbè questo lo sappiamo tutti, se noi provassimo a tradurre questo, e questa è una definizione matematicamente ricorsiva perché definisce il fattoriale di un numero per sapere il fattoriale di n, per saper calcolare un fattoriale qualsiasi, devo per definizione saper calcolare un fattoriale, poi un matematico dice sì, però in realtà qui c'è n meno 1, quindi se truiteri n un certo numero di volte pari al massimo n, allora trovi un punto di terminazione perché questa condizione qua non si applica più, si applica a quell'altra e ti fermi, questo dal punto di vista matematico. Ecco, se noi traducessimo direttamente in codice questa definizione, arriveremo a qualcosa di questo genere, cioè calcola il fattoriale con modalità ricorsiva di un determinato n, se n vale 0, allora è 1, questa è una funzione che restituisce il valore del fattoriale, quindi se per caso il parametro n è 0, mi dice la definizione che il risultato che devo ritornare deve essere 1, altrimenti se n è maggiore di 0, quindi maggiore o uguale a 1, cosa devo fare? Devo calcolare il fattoriale di n meno 1, chiamo questo fattoriale di n meno 1 e poi il risultato che ho ottenuto lo moltiplico per n e lo restituisco. Quindi ho applicato la definizione, questo è un esempio di una funzione ricorsiva, perché vedete che nel calcolo di questa funzione dentro ho una chiamata alla funzione stessa. cosa succede nella pratica dentro il mio programma? Succede che ogni volta che chiamo una funzione, adesso non vuoi parlare nel tecnico, ma ogni volta che chiamo una funzione in Java vengono allocate delle risorse sullo stack, poi avete lo stack delle chiamate, lo vedete quando salta fuori un'incezione, quando salta fuori un'incezione vedete che il codice è arrivato a un certo punto, la linea tal dei tali di quel metodo, chiamato da quella linea di quell'altro metodo, chiamato da quella linea di quell'altro metodo e così via. Abbiamo una sequenza di funzioni o metodi che si chiamano l'un l'altro e ogni chiamata viene impilata sopra le altre, una volta che chiamo una funzione io ho ottenuto uno stack già di chiamate in corso, ne aggiungo una nuova che ho chiamato e quindi entro dentro quella chiamata, dentro quel contesto. Se quel metodo chiamo un'altra funzione, viene aggiunta un'altra allo stack e così via. Questa sequenza di chiamate la chiamiamo stack, cioè pila, immaginate una pila di piatti, quando io una pila di piatti per mettere uno nuovo lo posso solo mettere da sopra, lo aggiungo a quelli che già c'erano e per toglierlo tolgo da sopra, fra le altre operazioni. Quindi una chiamata aggiungo un nuovo livello a questo stack di chiamate e quando la chiamata ritorna tolgo quel livello e tornando al livello precedente. Nel caso di una chiamata ricorsiva, anche, cioè con piattore già non si accorge di nulla, è una chiamata come tutte le altre. Quindi noi avremo nel nostro stack il main che chiama la procedura fattoriale, che chiama la procedura fattoriale, che chiama la procedura fattoriale e così via. Quindi nel nostro stack avremo tante copie diverse della stessa procedura, ciascuna con le proprie risorse locali. Questo è un punto a cui bisogna fare attenzione. Queste varie copie di funzioni che vengono chiamate tutte l'una dall'altra, condividono lo stesso codice, ovviamente, il codice è quello, ma hanno ciascuna una copia privata di che cosa? Dei parametri della funzione e delle variabili locali. Le variabili che io definisco dentro la funzione sono mie, se la funzione chiama se stessa, quell'altra se stessa, quell'altra copia di me avrà le sue variabili locali, avrà il suo parametro, avrà il suo valore di ritorno, avrà il suo puntuale di ritorno, magari io ho chiamato il main, chiama questa funzione, questa funzione va a questa riga e chiama questo al funzione ricorsivamente. Quindi la prima chiamata, se andiamo a vedere nel debugger, è ferma qui. La seconda chiamata magari è qui, perché ho appena iniziato. Quindi ciascuna delle tante copie può essere ferma o arrivata a un certo punto diverso nell'esecuzione del codice. Ciascuna si comporta come una normalissima funzione, entro, ho dei parametri, ho delle variabili locali, faccio ciò che voglio, vado avanti nel codice e uscirò. Ognuna vive nel suo mondo, salvo ovviamente gli oggetti esterni, cioè se a questa funzione viene passata una lista di oggetti, ad esempio ovviamente questa lista, se definita fuori, sarà la stessa condivisa tra tutte le funzioni, ma questo non è nulla di specifico per le funzioni ricorsive. Come faccio a essere sicuro che questa funzione non va avanti all'infinito? È grazie a questo n-1, perché io so, ma l'ho costruita io e devo garantire io che sia così, non c'è nulla che me lo dà per garantito, che ogni volta che la chiamo questo valore di n viene decrementato di 1 e quindi prima o poi troverò n uguale a 0. Nel senso che qua ci sono due problemi in questa funzione, ma farla completa non mi stava. Chi è capace a farmi scoppiare questa funzione? Datemi un n che mi faccia scoppiare questa funzione. n è negativo, metto meno 1, sta roba qua, va avanti, prima che un long arrivi a meno 2 miliardi e poi riprendere più di 2 miliardi e torni a 0, hai voglia di aspettare che facci le moltiplicazioni. Va in overflow questa moltiplicazione. Quindi non è proprio perfetta questa funzione, ma ci dà l'idea, ci dà l'idea che chiamare una funzione all'interno di se stessa non è poi così strano, così spaventoso come sembri. Questo non è un esempio da copiare perché non è il modo più efficiente, né il più furbo di calcolare il fattoriale, perché per calcolare il fattoriale basta fare un loop, non è che devo moltiplico. Uso l'altra definizione che dice che il prodotto determini da 1, anzi da 2 a n, fine, faccio molto più in fretta, anche dal punto di vista del tempo di esecuzione. Però è il primo esempio più semplice. Ma a parte questo, l'idea di ricorsione ci può servire per aiutarci ad affrontare problemi molto più complessi che noi calcoliamo il fattoriale, la cui soluzione tutta insieme è difficile da trovare. Allora, prendiamo l'esempio delle classi che facevo prima. Fammi l'orario tutto insieme, è troppo complicato. Beh, allora proviamo a semplificare il problema. Fammi l'orario del lunedì. Se io so fare l'orario del lunedì, allora poi saprò fare l'orario del martedì, del mercoledì, eccetera, allora saprò fare quello della settimana. Quindi io prendo un problema complesso, lo spezzo in problemi più piccoli. I problemi più piccoli sono della stessa natura del problema di partenza, perché fare l'orario di una settimana e fare l'orario del lunedì, qualitativamente, è la stessa cosa. Quantitativamente lavoro più nel piccolo. Poi tu mi dici, però il lunedì è ancora difficile. Allora fammi l'orario della prima ora del lunedì. Allora questo problema che avevo di una certa dimensione, l'ho scomposto in problemi dello stesso tipo ma più piccoli e a sua volta posso fare la stessa cosa. Riscompongo il problema che è già più piccolo in altri problemi dello stesso tipo ancora più piccoli. e poi ovviamente vado avanti fin tanto che il problema a forza di scomporre è diventato così piccolo che lo so risolvere. Nel senso che se alla fine il problema si è ridotto a fammi l'orario del lunedì, prima ora, aula 1i, allora a questo punto ho un'aula, uno slot orario e come faccio a risolverlo? Vabbè, avrò 100 corsi diversi, uno di questi. Ti do 100 soluzioni diverse, ci metto il primo corso, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Beh, magari non tutti 100, perché i corsi da 200 persone, da 300 persone non ci stanno qua dentro. Allora dei 100 corsi disponibili ce ne saranno magari 70 che devo provare a mettere. Allora ti so fornire 70 soluzioni valide per il sotto, 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 sotto problema, fammi l'orario di quest'aula lunedì mattina alle 8.30. Quindi se io prendo un problema grande, lo decompongo in problemi più piccoli, ad ogni passo il problema diventa più semplice. A un certo punto diventerà così semplice che la soluzione o le soluzioni possibili sono ovvie, è facile elencarle. E allora a questo punto io avrò le soluzioni dell'aula 1i alle 8.30 del lunedì. E poi ovviamente ne avrò 70. Poi ovviamente avrò le soluzioni dell'aula 2i, dell'aula sempre 1i alle 10 del lunedì, eccetera. Per fare le soluzioni dell'aula 1i al lunedì intero dovrò mettere insieme le singole soluzioni parziali, facendo attenzione a ciò che posso mettere insieme. E se un corso l'ho già messo nell'aula 1i, lo stesso corso nella stessa ora non potrà essere nell'aula 3i. Quindi in realtà quando vado a decomporre questi sottoproblemi, questi sottoproblemi non sono tutti indipendenti. Ma man mano che decompongo avrò fatto già delle scelte parziali e poi dovrò tener conto quando ho il sottoproblema più piccolo, quando provo a riempire l'aula 3i, devo tener conto che lì dentro non ci devo provare a mettere tutti i corsi possibili, ma tutti quelli che non sono stati assegnati alla 1i, né alla 12a, né alla 7b. Cioè tutti i corsi non sono ancora stati assegnati a nessun'aula. E quindi ogni volta che vado avanti il sottoproblema non solo diventa più piccolo, ma diventa anche più vincolato perché una serie di vincoli aggiuntivi sono conseguenza delle scelte che ho fatto prima. Quindi questa strategia cosa ci dice? Ci dice, hai un problema grande, cerca di trovare un meccanismo, una regola generale per prendere il problema e decomporlo in sottoproblemi più piccoli. Se i sottoproblemi più piccoli sono dello stesso tipo del problema di partenza, allora qui sì che abbiamo una ricorsione, perché per risolvere il problema X mi riconduco a risolvere 10 volte un problema sempre X, ma più piccolo. E se hai il problema sempre X, il meccanismo per scomporlo di nuovo lo posso riapplicare e allora ciascuna di queste 10X la potrò scomporre a sua volta in altre 8X e così via. Saper scomporre un problema una volta sola non è che ci serva molto, cioè se il problema X lo scompongo in tanti problemi Y, poi mi fermo. E poi devo trovare gli Y e come faccio? Boh, se sono troppo complicati non lo so. Ma se riesco a decomporre un problema in sottoproblemi che sono dello stesso tipo, allora lo posso ripetere tante volte questo meccanismo. Allora effettivamente riesco ad assottigliare la complessità fino ad avermi banali. Alcuni dicono che questo sia un'applicazione del principio divide-timpera di Giulio Cesare, poi un tizio invece mi ha fatto dei commenti su YouTube dicendo guarda che non è vero perché dal punto di vista storico il divide-timpera quello di Giulio Cesare funzionava in modo leggermente diverso, nel senso che lui divideva i territori e lasciava che si combattessero tra di loro. Poi quando erano abbastanza stanchi dai combattimenti reciproci andava lì e li conquistava. Noi purtroppo i sottoproblemi non possiamo fare in modo che si risolvano da soli uno contro l'altro e dobbiamo farlo noi, quindi è un'applicazione informatica, un'interpretazione un pochino, diciamo così, libera del principio divide-timpera. Questo lo vediamo dopo. Quindi dal punto di vista del codice, se usiamo questa analogia del divide-timpera, a livello di pseudocodice immaginiamo che un ipotetico main voglia calcolare una soluzione a un problema e abbia un metodo risolvi problema. Allora io ho un problema da risolvere e la soluzione di questo problema mi dà una soluzione. Come faccio? Come posso fare? Allora qui sotto c'è una traccia di implementazione di questa procedura risolvi. Risolvi il problema come si fa? Prendo il problema di partenza e lo divido in una lista di sottoproblemi. Questo è un pseudocodice, ma genericamente per capire cosa facciamo. L'unico vincolo vero è che questi sottoproblemi siano dello stesso tipo del problema di partenza. A questo punto ho tanti sottoproblemi da risolvere, per ciascuno di questi lo risolvo. Quindi ho un sottoproblema sub P di 0, sub P di 1, sub P di 0, sub P di 0, 1, 2, 3, ciascuno separatamente dagli altri lo risolvo. E ovviamente ciascuno mi darà un pezzo della soluzione, la soluzioncina di quel sottoproblemino. Una volta che ho le soluzioncine dei sottoproblemini, cioè la 1i, la 3i, la 5i, eccetera, devo poi metterle insieme per avere la soluzione al problema superiore, cioè il blocco dell'aulo i, ad esempio. E una volta che ho combinato le soluzioni di sottoproblema, ritorna la soluzione di partenza. Quindi io ho un meccanismo attraverso il quale dato un problema ti so trovare, te lo so scomporre in sottoproblemi più piccoli. E supponendo di saper risolvere i sottoproblemi più piccoli, so rimettere insieme le soluzioni che arrivano ai sottoproblemi più piccoli nella soluzione più grande. E questa linea qua, è quella che secondo me ci manda fuori, c'è un atto di fede. Cioè io sto risolvendo il problema a un certo livello e chiamo una funzione solve dicendo, ah ma tu al livello più basso sei capace. Quindi io mi fido quando arrivo qua, a questa linea, che il metodo solve sia capace di risolvere il problema più piccolo. E visto che mi fido, la sua soluzione la prendo e la uso. L'atto di fede sta nel fatto di non pensare in quel momento che in realtà il metodo solve sono sempre io. E quindi col cavolo che lo so risolvere. Però è un altro solve, non sono io, è un altro clone. Quindi avrà i suoi problemi. Quell'altro solve avrà i suoi problemi, quindi immaginate questo e fatele una copia mentale a fianco, quell'altro solve farà la stessa cosa, ha un problema che è più piccolo, ma a sua volta lo sa decomporre in altri problemi più piccoli, di cui si fida che esisterà un metodo solve che sarà capace di risolverli. E così via. Quindi ad ogni volta, alla fine quando uno vede, adesso poi lo vedremo nel codice vero, quando vede una procedura ricorsiva, le prime volte c'è sempre una sensazione di disagio in cui dice, ma dov'è il punto in cui si risolve questo problema? Perché ognuno dice, beh lo risolve qualcun altro, poi qualcun altro sono sempre io, ma alla fine chi lo risolve? Alla fine lo risolvo quando conosco come nel fattoriale di zero un punto d'arrivo. Cioè tutto questo meccanismo in realtà non serve per risolvere la soluzione, serve per spacchettare il problema in entità talmente piccole che si possono risolvere in modo non ricorsivo, perché se no ovviamente la ricorsione andrebbe avanti all'infinito e noi non abbiamo infinito, torni poi voglia di aspettare. Quindi dopo un livello di annidamento sufficientemente profondo, prima o poi, i sottoproblemi devono diventare così semplici che si possono risolvere o in modo non ricorsivo o addirittura in modo banale, cioè c'è una sola ola, è quella, ci sono i ricorsi, il primo oppure il secondo oppure il terzo. Allora ogni procedura ricorsiva, questa parte gialla è quella di prima, deve avere anche un caso particolare in cui dice guarda, sto problema qua è abbastanza semplice, stupido, banale, che lo posso risolvere in modo banale, oppure non è banale e quindi lo devo decomporre in sottoproblemi. Quindi la procedura ricorsiva in realtà deve sempre avere queste due parti. La condizione di terminazione, la chiameremo, cioè il caso in cui so risolvere il problema in modo terminale, cioè termino la ricorsione, termino questa sequenza di chiamate annidate e fornisco la soluzione a un piccolo problema, è chiamato questo solve trivial in blu, che è diverso, oppure se non sono capace a risolvere il problema, se il problema non è già risolto, tante volte quando arriviamo al fondo della ricorsione ci accorgiamo che il problema, che una soluzione c'è già, è quella. Da che c'è una sola, avendo svoltito, 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 alla fine ho trovato un elemento solo. Oppure il caso contrario, ma non è ancora banale e quindi lo decompongo. quindi di nuovo il disagio non va via del tutto, perché quando uno va a vedere quella parte di soluzione banale, dice ma sì, l'ho capito, quando c'è un corso solo, un'aula sola, un giorno solo, lo so risolvere. Però non è la soluzione complicata. Ecco, la ricorsione cerca semplicemente di aiutarci a applicare la conoscenza, risolvere quando ho solo un corso, solo un'aula e organizzare in un castello di scelte che permette di darci la soluzione completa, sapendo risolvere il caso particolare, più piccolo. Questo a livello filosofico, poi a livello implementativo è un pochino più complicato. Adesso qui lasciamo perdere il discorso di scelte, perché lo riprendiamo dopo. Come dicevo, salto un pochino avanti e indietro. Allora, io proverei a fare un esempio pratico. Allora, ciò che vi chiederemo anche di fare in laboratorio è di ragionarci un pochino carta e penna, una matita, prima di buttarci nel codice, per riuscire a capire come impostare un problema ricorsivo. Quindi io prenderò questo esempio qua, perché probabilmente il secco operativo l'ha già citato, ma avrete anche studiato i metodi analitici per risolvere questo problema. A noi non interessa sono i metodi più furbi. Lo usiamo come esempio relativamente semplice per impostare la ricorsione. Useremo questo problema come pretesto, come esempio, per prima di tutto vedere un flusso mentale, una metodologia di impostazione dei problemi ricorsivi. Quindi prima capiamo il problema, poi capiamo quali sono gli ingredienti essenziali di una risoluzione ricorsiva di quel problema, ce li scriviamo su un foglio di carta e poi da lì passiamo al codice eventualmente. Ok? Allora il problema, immagino che lo conoscete tutti, comunque lo riassumiamo velocemente, noi abbiamo uno zaino da riempire, il famoso problema dello zaino, che ha una portata massima, cioè questo zaino può trasportare al massimo 15 kg. Poi abbiamo una serie di lingoni di valore, ciascuno dei quali ha un valore, questo vale 4 dollari, questo vale 2 dollari, questo ne vale 10, questo ne vale 2 e così via. Ma ovviamente i lingotti hanno anche un peso, poiché questi lingotti sono poi di materiali diversi, chi d'oro, chi d'argento, chi di titanio, il preso e il valore sono scorrelati, non è che un peso doppio corrisponda a un valore doppio. Allora il problema qual è? è quello di riuscire a riempire lo zaino con il massimo valore possibile senza superare il limite di peso. Allora noi abbiamo questi 5 elementi, la somma dei pesi fa 12 più 2, 14 più 1, 13 più 4, 17 più 1, 18, tutto non possiamo prendere, non possiamo prendere tutti e 5 i lingotti. Qual è la scelta migliore? adesso possiamo metterci a discutere, ma lascia giù il verde perché è l'unico che pesa tanto, prendi gli altri. Allora il giallo prendiamolo di sicuro, pesa poco, costa tante, vale tanto, però questi sono ragionamenti empirici. Allora noi possiamo trovare una soluzione empirica a questo problema dandoci un criterio di buon senso ed applicandolo. Che ne so, io metto dentro quello che vale di più, questo, 4. Poi dopo che ho messo il giallo mi restano ancora 15 meno 4, 11 chili disponibili. Allora quegli 11 chili che cosa ci metto? Beh il verde no perché non ci sta più, ci metto dentro il secondo, il terzo e il quarto, perché ci stanno. E magari ho fatto il mio meglio, magari di più non potevo fare, magari è già l'ottimo, ma non posso saperlo. Qualunque criterio empirico mi permette forse di trovare una soluzione, ma non mi dà mai la garanzia che quella soluzione sia quella migliore. E se avessi invece preso questo? Ecco c'è sempre un se invece avessi quando facciamo delle scelte in modo empirico. L'empirico significa che io prendo una decisione sulla base di un criterio che mi sembra giusto. Qualcuno di voi, non so, siete giocatori di scacchi? Ci sono delle mosse che se tu la consideri quella dici, ma questa sembra una mossa furba. Allora se tu muovi un pezzo pensando questa sembra una mossa furba, non sei un giocatore di scacchi. Perché devi sempre valutare, sì sembra furba, ma se io invece anziché questa ne facessi l'altra, se invece anziché quest'altra ne facessi quell'altra ancora, devo valutare tutte le alternative possibili prima di dire che quella è una mossa furba. Il bambino di 6 anni che impara a giocare e impara a che mangiare è meglio che non mangiare, ma non è vero. Però sembra empiricamente una cosa furba da fare, ma non è detto che sempre convenga mangiare, magari come vieni a farti mangiare subito dopo fai il scacco matto. E allora anche qua questo problema, questa istanza di problema ha dei numeri per cui è facile risolverlo ad occhio, ma non è detto. Se io devo mettere in piedi un algoritmo, non è detto che mi convenga sempre prendere il pezzo che ha il valore più alto, perché magari se lo lasciassi fuori la somma se ne incastrano altri 3 che come peso si incastrano bene col peso dello zaino e guarda caso valgono mezzo dollaro in più, non posso escluderlo. Allora per questo che noi parlavamo prima di esplorazione sistematica delle soluzioni, la ricorsione è stupida, applica un meccanismo che è sempre lo stesso, prendendo un problema e decomponendolo, senza fermarsi a ogni livello a ragionare sul problema, delega, prendo, decompongo e delego. Quindi un approccio ricorsivo è un approccio che in qualche modo riesce senza capire il problema. Poi a volte non basta la ricorsione da sola, servirebbe anche a cercare di capire, cercare di risolvere, cercare di dare dei criteri per escludere a priori certe soluzioni, ma quello eventualmente lo vediamo dopo, ben più avanti. Per ora cerchiamo di provare a risolverlo in un modo sistematico, senza ragionarci, quindi immaginate che lì non ci sia scritto 2, 4, 1, 10, ma si è scritto A, B, C, D, dei numeri che non conosciamo, quindi il nostro istinto di dire ovvio che il verde non ci vuole il giallo sì e non diventa più ovvio niente perché non so più i numeri. E allora devo definire un meccanismo di risoluzione. Questo meccanismo che si baserà sul mettere dentro, pesare, lo posso ancora mettere dentro sì o no? Se pesa sufficientemente poco rispetto agli elementi che ci sono ancora e alla capienza dello zaino lo posso mettere dentro e mettendolo dentro e mi dà un valore in più. Allora qual è la combinazione di pezzi la cui somma dei pesi è minore di 15, minore o uguale, e la cui somma dei valori è massima? Per saperlo devo provare tutte le combinazioni possibili. Allora come possiamo impostare questo provare tutte le combinazioni possibili? Allora metto il verde, lo tolgo, metto il grigio, lo tolgo, metto il giallo, lo tolgo. E però queste sono tutte le combinazioni di un pezzo. Poi sono tutte le combinazioni di due pezzi, il verde e l'azzurro, li tolgo, l'azzurro e rosa, o il salmone, che colore è, il giallo e il grigio, eccetera. Poi c'è tutta la combinazione di tre e già ci siamo incasinati perché già a codice non saprei come farla sta roba. perché stiamo pensando a generare di botto le combinazioni finali. Un pensatore ricorsivo non pensa così. Un pensatore ricorsivo dice ok, il mio problema di riempire lo zaino lo decompongo in due parti. Metto un pezzo, metto gli altri. Cioè per riempire uno zaino con cinque pezzi, scelgo un pezzo da mettere e poi delego a qualcun altro la risoluzione di riempire uno zaino con i quattro pezzi che sono rimasti. Ovviamente questo altro zaino avrà una capienza residua minore di quella iniziale. Quindi qualcun altro si troverà davanti a un problema dello zaino, di uno zaino non più da 15 kg ma da meno e quattro pezzi tra cui scegliere. E lui dirà io non so risolvere di botto, però lo posso separare in due sottoproblemi. Uno scelgo un pezzo e poi mi rimane un altro sottoproblema di uno zaino più piccolo con tre pezzi da mettere e lo delego a qualcun altro. Quindi mi sono inventato un meccanismo per passare da un problema a un problema uguale più piccolo. Uguale perché sempre lo zaino si tratta, pezzi da mettere dentro. Il problema di sinistra, cioè scelgo un pezzo, come lo risolvo? Quale pezzo scelgo? Provo il primo, provo il secondo, provo il terzo, provo il quarto, provo il quinto. Sono capace a fare un ciclo for. Non sono capace a fare quattro cicli for nei dati che li provengono tutti, infatti per quello lo volevo evitare. Però il primo problema lo risolvo facilmente, scelgo un pezzo. Poiché non so qual è il pezzo migliore da scegliere, provo tutti uno dopo l'altro. Provo ovviamente il primo, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, poi il quinto. Abbiamo detto che vogliamo provare tutte le combinazioni e quindi dobbiamo provare tutte. E poi l'altro sottoproblema semplicemente è un problema più piccolo che l'altro. Questo è un modo di pensare. Poi in realtà c'è un altro modo, sempre sul stesso problema, di scomporre in un modo leggermente diverso. Uno può dire, quindi questo ragionamento lo riprendiamo e è di un certo tipo. Abbiamo decomposto il problema in scelgo un pezzo da mettere tra quelli disponibili, virgola, delego a qualcun altro il mettere i pezzi rimanenti nel peso rimanente di zaino. Altro modo di affrontare il problema è decomporlo, non è mai unico, è al primo livello decido se mettere il pezzo verde. Quindi numererò questi blocchi 1, 2, 3, 4, 5, partiamo dal verde in senso orario e quindi la prima scelta che faccio è decido se mettere il pezzo verde o no. Poi delegherò a qualcun altro la decisione se mettere gli altri. Sarà lo metto o non lo metto? La scelta possibile. Quindi lo metto e poi delego a qualcun altro di risolvere il problema sapendo che l'ho messo, poi non lo metto e delego a qualcun altro di risolvere il problema sapendo che non l'ho messo, il verde. E quel qualcun altro del secondo livello cosa farà? Si troverà uno zaino che contiene oppure non contiene, non lo so, però è un solo zaino con 4 pezzi e il secondo dovrà decidere del pezzo azzurro. E quindi il secondo livello deve dire l'azzurro lo metto o non lo metto? Ci sono due possibilità, le provo a metterlo e poi delego a qualcun altro di risolvere il resto del problema con i tre pezzi che restano. Ovviamente questo livello dell'azzurro prova a mettere o non mettere l'azzurro una volta avendo il verde in pancia e la seconda volta verrà richiamato più tardi, ma lui non lo sa, perché è un suo gemello che verrà richiamato più tardi, non avendo il verde già, perché al livello superiore qualcuno ha deciso di no. Quindi sono due modi diversi di decomporre il problema, il primo è ad ogni livello mi chiedo quale pezzo voglio mettere, tra tutti quelli che sono ancora rimasti liberi. Il secondo modo invece è ad ogni livello ho già fisso, perché gli ho messi in ordine, gli ho dato un numero, qual è il pezzo su cui devo ragionare e allora devo solamente scegliere se metterlo o non metterlo. Quindi nel primo caso io metto sempre un pezzo ma scelgo quale, nel secondo caso io non scelgo quale, l'ho già deciso ma decido se metterlo o no. Alla fine sono due modi diversi di decomporre il problema e fare in modo di ricondurci ogni volta a un problema un pochino più piccolo, cioè sempre con un pezzo in meno, ma con un meccanismo diverso. Quindi la chiave nel riuscire a impostare in modo ricorsivo un problema è trovare un meccanismo e capirlo che ci permetta di prendere, di inventare come decomporre, come semplificare questo problema. Poi ovviamente c'è l'altro ingrediente del tipo quando mi fermo. Qual è il caso più semplice di uno zaino di cui ti so dare la soluzione? Beh è un problema di zaino che abbia quanti pezzi da mettere? Zero. No, zero è più semplice di uno. Uno è semplice, ma zero è ancora più semplice. Se mi dicono che c'è uno zaino e non devo mettersi dentro nessun pezzo, bello, l'ho risolto. Questo è lo zaino. Allora, questo tentativo di ragionamento come lo formalizziamo? Abbiamo provato a riassumerli una serie di suggerimenti, ok? Per questo ho preferito anticipare questo argomento, adesso sono le 9 e 20, siamo abbastanza svegli. Un procedimento che ci aiuti ad analizzare un problema che vogliamo risolvere con metodi ricorsivi. Allora, una ricorsione ho una funzione che chiama a se stessa tante volte. Quindi ho più livelli di ricorsione, annidati uno dentro l'altro, ok? Chiamiamoli livelli. Quindi la prima chiamata della funzione sarà il primo livello, livello 0, livello 1, secondo di come vogliamo contare. Poi ci sarà il livello 2, livello 3, livello 4, fino all'ultimo livello più grande. Il problema è banalmente. Ad ogni livello che cosa ho? Ho un sottoproblema da risolvere. Ho un problema parziale da risolvere e una soluzione parziale da trovare. Quindi la domanda che mi faccio è come è fatta la soluzione parziale che sto costruendo via via? Devo immaginarmi di una soluzione, immaginavo di avere un foglio di carta in cui devo descrivere come è fatto lo zaino. Allora, se tu l'hai già finito, hai già risolto il problema di botto, me lo puoi descrivere in un certo modo. Però immagina invece di doverlo descrivere in modo incrementale. Cioè, nella strategia 1, quella di prima, nell'esempio che facevamo lo zaino, la soluzione parziale può essere ho messo dentro il livello blu. È parziale perché non ho ancora finito di valutare se si devo mettere anche il grigio oppure no. Un'altra soluzione parziale in quel caso è ho messo dentro il grigio e l'arancio. Sono soluzioni di livello 2. Ad ogni livello aggiungo un pezzo. Se posso, per carità, se lo zaino diventa già troppo pesante, non posso più andare giù di vello, mi devo fermare. Quindi io costruisco la mia soluzione fatta dai pezzi che ci metto, decidendo che ad ogni livello aggiungo un pezzo. E la soluzione parziale sarà, la soluzione parziale a livello 3 sarà il sotto insieme di 3 pezzi che ho aggiunto. L'altro caso, invece, la soluzione parziale è fatta diversa. Perché io a livello 3 di ricorsione non è detto che abbia 3 pezzi. Perché non ricordate nel secondo caso, io ad ogni livello scelgo se metterlo o non metterlo. Quindi io a livello 3 la soluzione parziale sarà no, no, sì. Oppure sì, sì, no. O addirittura no, no, no. Cioè posso dirti che non ho messo nessun pezzo. Ad ogni livello la soluzione parziale è la scelta di aver messo o meno tutti i pezzi che sono numerati da 0 a 3. Il primo, il secondo e il terzo. Perché è fatto in modo diverso. Però io ho comunque un meccanismo che mi permette di dire, ok, dalla soluzione di livello 3 io so come generare una soluzione di livello 4. Nel primo caso io ho 3 pezzi per generare il livello 4 e tra i pezzi rimanenti quale mettere come quarto. La parola è rimanenti, cioè non posso rimettere gli stessi che avevo già prima. Nell'altro caso io ho già fatto 3 scelte, devo decidere il quarto che era il rosa, no, quello sotto qual era, no, il giallo. Se metterlo o no. Quindi ogni volta che mi trovo di fronte a una soluzione parziale so qual è la soluzione parziale. So qual è il livello a cui sono arrivato e quindi so qual è il meccanismo per generare la soluzione di livello più 1? Quindi mi chiedo, sono capace a scrivere una soluzione completa? Come è fatta? Quanto è lunga? Conoscendo la soluzione completa, come è fatta la soluzione parziale? Perché poi io quella completa non la genero di botto, la genererò la ricorsione poco per volta. Ogni livello della ricorsione vede una soluzione parziale. Come è fatta? È data una soluzione parziale? Come faccio a generare quelle sempre parziale e un pezzettino in più? Questo è il meccanismo generativo della ricorsione, il passo divide dello pseudo codice. E poi a un certo punto mi posso accorgere che una soluzione parziale è completa, cioè da lì non se ne possono generare altre, sono arrivato alla fine, sono arrivato al problema banale, allo zaino con 0 elementi. E allora lì mi posso fermare e vedere se lo zaino che ho trovato è un zaino accettabile oppure no, ad esempio. Poi ovviamente c'è l'altro problema che può venire dopo nel ragionamento. Nella ricorsione io mi immagino sempre di essere a livello i. Sono chiamato dal livello i-1 e devo chiamare il livello i-1. Però a un certo punto ci sarà un livello 0 che ha fatto partire tutto. Qualcuno dovrà chiamarlo questo livello 0, non è che si chiama da solo. Quindi così come c'è una condizione di terminazione in fondo c'è anche una condizione di avvio, ma poi è più facile questa, perché la funzione di avvio è semplicemente preparare le strutture dati che servono poi alla ricorsione per macinare. In pratica, queste sono una serie di domande che devo farmi. Io ho una soluzione parziale, immaginate di aver scelto tre pezzi. Allora innanzitutto questa soluzione parziale potrei già scoprire che non è valida. Già questi tre pezzi pesano troppo. E allora mi fermo, non continuo, la butto via. È inutile che se so già che questi tre pesano troppo provi a scegliere quale aggiungere come quarto. No. Quindi già di fronte alle soluzioni parziali e prima di generare quelle successive, al livello successivo devo vedere se questa soluzione è ancora valida, oppure se non è uscito l'asseminato, se non è uscito lo zaino. Ho già uno dei vincoli, in quel caso non lo considero. Se non è valida, la ricorsione deve terminare. Se è valida, invece posso continuare. Poi questo dipende molto dal problema. Tante volte non posso sapere, non posso capirlo, non ho abbastanza informazioni per sapere se è una soluzione promettente o no, se la posso accettare o no. Nel dubbio vado avanti sempre. Quando invece ho la certezza che da lì non cavo nulla, posso interrompere. Viceversa, lo stesso ragionamento lo possiamo fare se la soluzione è completa. Non posso scomporla ulteriormente, è diventato un problema banale. Ok, questo problema essendo banale posso dire se è giusto o sbagliato, se è risolto o non risolto, se rispetto o non rispetto ai vincoli. Quindi questo è ciò che devo fare dentro la procedura essenzialmente. Poi a livello implementativo, l'altra domanda che mi devo fare è cosa mi serve come risultato. Una volta che trovo una soluzione valida, mi accontento? Mi basta trovarne una? In alcuni casi sì. Ci sono dei problemi in cui tutte le soluzioni legittime, legali, sono equivalenti. Allora basta trovare la prima e sono a posto. Pensate al giochino tipo il quadrato magico, no? Sapete il quadrato magico è quello in cui hai un quadrato 3x3 o 4x4, ci devi mettere dentro i numeri da 1 a n quadro in modo che la somma di numeri sulle righe e sulle colonne sia uguale per tutti. C'è tanti modi di ricombinare i numeri per ottenere sempre un quadrato che abbia questa proprietà, ma uno vale l'altro, no? Se devi trovare, basta trovarne uno. Ho i giochini tipo la settimana enigmistica, il presidente è quello dove c'è il fiorellino e il quadratino, eccetera. Fiorellino più quadratino uguale, cioè quei simboli, quelle operazioni aritmetiche con i simboli, no? E tu devi trovare quali numeri sono dietro a ciascun simbolo, per far sì che tutte le operazioni quadrino e lì normalmente la soluzione è unica. Quindi una volta che la trovi, che ne trovi una, quella è. Non vai a farti il pippo, ma magari ce ne sono altre. Normalmente no, non ce ne sono altre. Quindi ci sono dei casi in cui appena trovo una soluzione sono a posto. Altri casi invece in cui mi servono tutte. Trovo una soluzione, bene, però poi mi chiedo, ma se ce ne fosse una migliore? Come il caso del zaino? E allora devo, ogni volta che trovo una soluzione, memorizzarla e proseguire. Memorizzarla, nel senso che le voglio memorizzare tutte, oppure memorizzarla solo se è migliore delle precedenti, per dire se è maggiore del max, questo dettaglio. Ma alla fine io ho generato l'elenco, ho esplicitamente considerato tante soluzioni possibili. Oppure ci sono dei casi in cui mi interessa solamente contarle. Quante soluzioni ci sono? 12 miliardi e 830. Ah ok, grazie, punto, mi serviva solo quello. Può darsi che no. Allora, ovviamente cosa cambia? Cambia ciò che farò nella condizione di terminazione. Se nella condizione di terminazione ho trovato una soluzione, semplicemente se devo contarle e faccio contattore++, se devo fermarmela prima farò un return di questa soluzione qui e poi fermo la ricorsione, se invece devo memorizzarla, dovrò avere una lista in cui le salvo tutte l'una dopo l'altra, in modo che alla fine della ricorsione le avrò tutte. Questo è il problema poi di gestione dei dati. Però è una domanda da farci prima di iniziare il codice. Ovviamente ci sono delle strutture dati che dobbiamo usare per memorizzare poi queste soluzioni. Questa è una domanda che viene dopo però. Cerchiamo di farcela in ordine queste domande, adesso poi le faremo sull'esempio dello design. Ho deciso come decomporre il problema e quindi come rappresento queste soluzioni parziali? Una lista, una mappa, un set? Non lo so, dipende da com'è fatta questa soluzione parziale. Quindi prima di dire, prima di scrivere la struttura dati, metto lista o metto set o altro o un array o quello che volete, devo avere chiaro come è fatta la soluzione e come ne generano quelle nuove e di quali informazioni mi servono. Poi dopo a questo punto le mappo questi concetti che mi sono fatto sulla carta, ma però su strutture dati Java che facciano ciò che mi serve. Normalmente in termini della procedura ricorsiva sto portando avanti sempre due cose. Prima cosa è una soluzione parziale che costruisco man mano. Sono tanti modi di impostare la ricorsione ma quello più facile da cui partiamo è sempre quello costruttivo, cioè ad ogni livello aggiungo un pezzo. E quindi avrò una soluzione parziale che via via diventa sempre più completa man mano che scendo nella ricorsione. E poi però mi serviranno anche delle informazioni in più per permettere alle procedure ricorsive sotto di lavorare. Che ne so, l'informazione in più è quali sono i pezzi rimasti che vi hanno detto. Oppure qual è il peso residuo ancora libero nello zaino. Sono informazioni che non fanno parte della soluzione, la soluzione sono i pezzi che ho messo. Ma per permettere alla procedura di livello I di lavorare ho bisogno di un minimo di informazione che mi permetta di riassumere il danno che hanno fatto le procedure a livello superiore. Quindi cosa mi è rimasto a me da fare. Quindi sono due informazioni che vengono normalmente passate dall'alto verso il basso. La soluzione parziale che costruisco, che quando arrivo in fondo è completa, e lo stato della ricerca. Cioè, che cosa ho fatto finora, quali sono le informazioni minime che mi servono per poter capire. E quindi abbiamo uno scheletro di questo genere. Sempre. Alla fine mappiamo su codici queste cose qui. Procedura ricorsiva. Se condizioni di terminazione fai qualcosa, risultato, conto il risultato, vedi se è il migliore, eccetera. Oppure nell'altro caso in cui non sono terminato, qui vedete che c'è un ritorno, quindi qui sotto vado solamente se questa era falsa, generano una soluzione parziale. E perché generano una soluzione parziale messa dentro un ciclo for o un ciclo while? E perché come abbiamo visto ad ogni livello le soluzioni parziali possibili da aggiungere possono essere diverse. Nel secondo caso saranno sempre due, provo a metterlo, provo a non metterlo. Nell'altro caso saranno 5 al primo livello, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e così via. Perché ogni volta che vado avanti il numero di pezzi tra cui scegliere diminuisce di uno. Però ad ogni livello la scelta da prendere non è quasi mai univoca, ho più scelte possibili e la ricorsione dice prova le tutte, prova le tutte, quindi prova a farlo. Quindi avremo un meccanismo in cui quel pezzo lo metto, provo a vedere cosa succede e poi lo tolgo, perché adesso è una prova, non ero sicuro che fosse giusto. Quindi metto, ricorsione, tolgo. Ovviamente poi ho la procedura ricorsione, qui c'è un infiltro, nel senso che qui nel nostro azione diremo se la somma dei pesi è minore di 15, allora vai avanti, se no, no, non andare avanti perché questa soluzione parziale che ho costruito non è valida. E poi ciò che è scritto qua, backtracking, significa togli. Quindi aggiungi il pezzo, prova cosa succede a livelli inferiori dopo aver aggiunto il pezzo e poi toglilo perché devo ripristinare le cose come avevo lasciate, era solo una prova. Provo a mettere il giallo, lo tolgo, provo a mettere il verde, lo tolgo, provo a mettere l'azzurro, lo tolgo. Questo è lo schema generale. Quindi noi per ogni problema ci chiederemo queste cose. Cosa mettiamo in A, cosa mettiamo in B nel nostro caso specifico? del punto d'arrivo dell'aumento. Quindi prima ci faremo queste domande. Come ti compongo il problema? Come è fatta la soluzione parziale? Come è fatta la soluzione totale? Come genero una soluzione del livello I più 1 partendo dalla soluzione del livello I, eccetera, a livello concettuale? Poi queste cose cercheremo di tradurre in strutture dati e finalmente in blocchi di codice. C'è un altro blocco di codice che qua ho citato, questo E, che ho messo all'inizio qua in testa, l'ho chiamato qua do always, cioè ci sono funzioni e operazioni che magari devo fare sempre, ad ogni livello della ricorsione. Perché magari anche le soluzioni parziali possono essere totali? Cioè nel caso dello zaino aver messo il pezzo da 12, il primo, l'ho fatto da livello I, quello non è ancora una soluzione terminale perché posso provare ad aggiungerne altri, ma magari sì, ma magari è anche da considerare tra le soluzioni possibili. Quindi ci sono magari operazioni che vanno fatte ogni volta che ho una soluzione parziale, che quindi è molto simile a questo blocco A. Però questi sono i possibili punti in cui inseriamo del codice. Il cuore è questo, bcd, metto, provo, tolgo. Allora proviamo a vederlo sul nostro problema del design. Torniamo indietro a farci queste domande. Io non ho un foglio di carta, prendo blocco note. Allora, problema dello zaino, approccio 1, chiamiamolo così? Quello di qua, che nei gesti usavo la parte sinistra del mio spazio. Il problema dello zaino l'abbiamo definito. Che cosa mi rappresenta il livello, come imposto in generale la ricorsione e come è fatta una soluzione parziale? Allora, come imposto in generale la ricorsione? E ad ogni passo provo ad aggiungere, provo a scegliere quale pezzo mettere nello zaino. Questa era l'idea che avevamo avuto. Provo a scegliere, o meglio, scelgo un pezzo da mettere nello zaino e poi delego la soluzione del problema con i pezzi rimanenti. Delego a chi ha la procedura ricorsiva di livello inferiore. Questa è un po' l'impostazione generale. Quindi, in questa impostazione generale, come è fatta una soluzione completa? Sarà un insieme di pezzi. È una soluzione parziale? Siamo a livello I, sarà un insieme di I pezzi. Cioè, ciò che decido è che ad ogni livello aggiungo un pezzo. Scelgo un pezzo. Scelgo un pezzo. C'è scritto qua. Scelgo un pezzo. Lo leggo ancora una volta due. Ad ogni livello cosa devo fare? Scelgo un pezzo. Questo mi dice cosa devo fare dentro il livello e mi dice a un determinato livello quanti pezzi ho. E a ogni livello ne ho scelto uno, quindi nel livello 6, ne avrò 6 nella soluzione parziale. Quali? Non lo so. Quelli che ho scelto nei livelli superiori. Qual è la regola per generare tutte le soluzioni di livello più 1 a partire dalla soluzione parziale del livello corrente? Allora, qui dobbiamo fare un po' attenzione con i numerini, non confondersi. Decidiamo una volta per tutte se contiamo partendo da 0 o partendo da 1. Così poi diamo un significato a quella I, perché questa I è ancora un po' generica lì. Allora, io parto da una prima soluzione in cui non ho ancora messo niente dentro. Prima chiamata ricorsiva deve scegliere un pezzo, il primo pezzo da mettere. Questa prima chiamata ricorsiva la chiamiamo livello 0 o livello 1? Però poi dobbiamo avere ben chiaro in mente e andare tutto di conseguenza. Io preferisco chiamarla a livello 0, perché in questo modo il livello mi dice quanti pezzi ho già sistemato. E al primo livello, cioè a livello 0, ho sistemato già 0 pezzi. Dovrò sistemare lo 0 più 1 unesimo, il primo. Quindi la soluzione parziale a livello 0 è un insieme di 0 pezzi. La ricorsione inizia a livello 0, cioè a livello 0, cioè nessun pezzo. Quindi la procedura a livello 0, cioè a livello 0, cioè a livello 0, a livello 0, ho già i pezzi scelti. Dovrò aggiungere, dovrò scegliere, dovrò scegliere il pezzo i più 1. Quindi il primo livello della ricorsione che è a livello 0, ho già 0 pezzi scelti, devo scegliere il pezzo 1. E poi faccio ricorsione a livello 1. A livello 1 avrò già un pezzo scelto, devo scegliere il pezzo 2. Se aveste scelto uguale 1 qua, avremo un i meno 1, non avremo un più 1, cioè bisogna fare attenzione al valore specifico dell'indice. Quindi dovrò scegliere il pezzo di più 1 tra i pezzi non ancora scelti. Allora diamo una sigla, ipotesi, i pezzi totali sono n, supponiamo. Quindi quanti sono i pezzi non ancora scelti, n sono quelli totali, i sono quelli che ho già messo, n meno i sono quelli che mi rimangono da mettere. Quindi al primo livello, i uguale 0, devo scegliere tra tutti, un pezzo tra tutti gli n possibili. il livello minimo è 0. Qual è il livello massimo? il livello massimo, massimo, massimo sarà n. Però non è detto che si arrivi. Perché magari mi fermo prima di mettere n pezzi perché avendone già messi n meno 3 o n meno 4 ho già superato il limite di peso. Sono sicuro che questa ricorsione non potrà andare avanti più di n livelli, quindi sicuro non va avanti all'infinito. Perché? Perché ad ogni livello le opportunità di scegliere i nuovi pezzi diminuiscono, si assortigliano. Fino a quando arrivano 0, allora lì non posso più fare nulla. Quando sono a livello n, dice questa frase, a livello n ho già n pezzi scelti. Dovrò scegliere il pezzo successivo tra gli 0 o pezzi non ancora scelti. Questa è questa frase. L'importante è che questa frase voi la scriviate e la sappiate leggere a livello 0, a livello 3, a livello 7, a livello 40. Deve essere sempre vera. Questo è il vostro, come si dice in termini teorici, invariante della ricorsione. È una cosa che è sempre vera, man mano che la ricorsione va avanti è sempre vera. È sempre la stessa. E di sicuro ho un limite massimo al numero di livelli, n. E quindi, se i pezzi, adesso diamo qualche simbolo, man mano andiamo un pochino più nel dettaglio. I pezzi sono, chiamiamoli insieme pezzi di n, sarà pezzo 0, pezzo 1, pezzo 2, pezzo 3. La soluzione parziale, chiamiamola parziale di un insieme parziale che ha fatto di i elementi. Allora, proviamo a diventare un pochino più precisi. A livello i, ho già i pezzi scelti. Aggiungo, so che mi odiate quando giungo in mezzo, cioè da parziale di 0 a parziale di i-1. Cioè, quei pezzi che ho già scelto, dove li trovo, chi me li dice, è questo insieme parziale, nelle posizioni da 0 a i-1 avrà già un valore. Se sono a livello i uguale a 4, parziale di 0, 1, 2, 3 devono avere un valore, devono dirmi quali pezzi ci sono. A questo punto dovrò scegliere il pezzo i più 1, cioè parziale di i, devo metterlo dentro la casella i dell'insieme parziale. Se ne avevo i in partenza andavano nelle caselle, contiamo sempre da 0, da 0 a i-1. Quindi la prima casella libera che adesso devo riempire a livello di ricorsione i è quella del parziale di i. Immaginate un array in una posizione i, devo metterci il mio valore. Fino a i-1 li ho pieni, ho i elementi da 0 a i-1 e l'iesimo stocca a me, che sono a livello i della ricorsione. Contando da 0 è più facile perché il livello vuol dire tante cose. E gli n-1 pezzi non ho ancora scegliere, cosa saranno? Saranno quelli di pezzi meno parziale. I pezzi tra cui devo scegliere sono quelli che sono l'insieme pezzi tolto l'insieme parziale. Poi come lo implementiamo in Java, lo vediamo, però è importante essere sicuri di cosa vogliamo fare. Tutti gli elementi che sono nell'insieme, nel vettore pezzi, ma non sono ancora nel vettore parziale. E a livello i-1, partendo dalla soluzione parziale a livello i, ci creerò. Per tutti i pezzi che sono in, abbiamo detto, pezzi meno parziale, farò in modo che è parziale di i uguale p, detto pseudocodice. Cioè ho l'insieme di tutti i pezzi ancora da provare, cioè quelli che c'erano nel problema originario meno quelli che ho già messo nei livelli precedenti. E quindi una prima possibile soluzione parziale a livello i, quindi mette lì più un elimo pezzo che viene messo nella posizione i di questo insieme, è questo p che che dovrò provare per ciascuno dei pezzi rimanenti. Provare separatamente un sorta problema diverso per ciascuno dei pezzi rimanenti. Vi arriva un vettore con 3 posizioni piene, voi siete uguali a 3, dovete riempire la quarta posizione, la posizione 4. Con cosa? Con tutti i pezzi totali che non siano già stati messi prima. E quindi quali sono? Andiamo a vedere il primo pezzo totale l'ho già messo, no, allora lo devo provare. Il secondo pezzo totale l'avevo già messo, andiamo a vedere nel vettore parziale, ah sì c'è già, allora non lo provo più e così via. Tutti quelli che trovo devo provarli e quindi provare a metterlo e ricorsivamente vedere che cosa succede. Delego a questo punto dopo che ho provato a metterlo la procedura ricorsiva a risolverlo. Ma adesso qui stiamo solamente preparando gli ingredienti della procedura ricorsiva, non li stiamo ancora mettendo insieme, stiamo rispondendo alle domandine per capire cosa fare nei vari passaggi. Quando una soluzione parziale è valida? quando la somma dei pesi degli elementi di è minore della capacità dello zaino, minore uguale. Quindi nel momento io so dirti questa produzione parziale se è valida oppure no. Se la somma, se non è vera questa disuguaglianza, se non è vera questa disuguaglianza, allora quella soluzione non vale la pena di essere considerata, devo buttarla via. Se invece è vera questa disuguaglianza, la considero, la valuto, potrebbe essere buona e proseguo a generarne altre, perché queste sono parziali, non è detto che sia totale. Ogni soluzione parziale potrebbe essere una soluzione totale. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che io magari ho messo tre pezzi e quei tre pezzi lì non ne posso aggiungere altri. Quindi quella è una soluzione, a livello tre io non lo so ancora se a livello quattro riuscirò ad aggiungere dei pezzi, però potenzialmente quella soluzione di livello tre è una soluzione valida e potrebbe essere una soluzione non ulteriormente migliorabile, terminale, cioè nell'elenco della ricorsione non farò più altre chiamate sotto e quindi ho già la soluzione, quella è già una soluzione possibile. Questo è un caso specifico, funziona così nel problema dello zaino. Altri problemi che non sono quelli dello zaino magari sono impostati in modo che io debbo in ogni caso usare tutti i pezzi che ho a disposizione. Pensate dovevo fare l'anagramma di una parola e se devo fare l'anagramma delle permutazioni alla fine i pezzi li devo scegliere quali mettere e quando, chi mette per primo, chi mette per secondo eccetera, ma alla fine li devo usare tutti. Quindi non sarebbe vero che una soluzione parziale può anche essere una soluzione totale. Qua sì, perché la soluzione totale ha una lunghezza che non è detto che sia massimo, anzi ci arrivano quasi mai a n. E quindi la soluzione deve essere salvata se il suo costo è massimo. Cos'è il costo? Il costo della soluzione è la somma del valore dei pezzi della soluzione parziale. Cioè ogni volta che avete una soluzione parziale, purché sia valida chiaramente, perché se supera il peso o no? Ogni soluzione parziale valida. Quelle non valide no. Potrebbe essere una soluzione totale. Questa soluzione parziale che potrebbe essere totale la devo salvare, me la devo ricordare, se per caso è di costo massimo. Cioè il valore che ho in questo zaino, che sta nel peso disponibile, perché è minore o uguale ed è valida, lo calcolo sommando il valore dei singoli pezzi. E quindi questo mi dice cosa devo farne delle soluzioni. Alla fine mi interessa, alla fine della ricorsione, alla fine della ricorsione, mi interessa solo la soluzione di costo massimo. O meglio, dovrei dire una soluzione di costo massimo. Perché magari ci sono 4 soluzioni che hanno tutte lo stesso costo massimo. Tante che hanno costi più piccoli non mi interessano, però quella che ha costo 99, ce ne sono due. Allora una delle due indifferentemente. Se dissi la soluzione, implicherei che ce ne fosse una sola che ha il massimo, invece non è detto. Allora abbiamo risposto a tutte le domande. Come faccio di riconoscere se una soluzione parziale è anche completa. E ogni soluzione parziale e valida potrebbe essere completa. Mi interessa salvarla, vado a vedere il costo. Se il costo di questa soluzione parziale che è valida è maggiore del costo delle soluzioni che ho visto finora, bene, me la salvo. Altrimenti, chi se frega. Ne ho vista una, ne ho viste tante, ma ne ho già una migliore, per cui questa non vale la pena di essere ricordata. Come viene avviata la ricorsione? Viene arrivata con con il livello 0, quindi l'avvio della ricorsione avviene al livello, questo l'abbiamo già detto, U uguale 0 partendo da un insieme parziale con nessun elemento ancora dentro infatti la nostra invariante cosa dice? a livello 0 ho già nessun pezzo scelto e quindi questo insieme è vuoto, da 0 a meno 1 è un range che non esiste, dovrò scegliere il pezzo 1 mettendolo in parziale di 0 tra gli n pezzi non ancora scelti, cioè pezzi tutti meno parziale insieme vuoto, cioè tutti. continuano a quadrare. Noi dobbiamo sempre pensare ogni volta che pensiamo o scriviamo qualcosa a tre casi. Il caso intermedio che è quello più facile, sono a metà della ricorsione. A livello I c'è un livello I meno 1 sopra e un livello I più 1 sotto. Il caso terminale, cioè cosa succede se non ho niente sotto e il caso iniziale c'è la prima chiamata. perché la stessa identica procedura ricorsiva lavora in tutti e tre i casi. Quindi ciò che scrivo devo fare in modo che valga in tutti e tre i casi. Allora, fatta questa analisi, possiamo iniziare a avvicinarsi verso il codice e che vuol dire scegliere strutture dati e scelte strutture dati a questo punto queste se un codice queste espressioni le possiamo tradurre in operazioni vere e proprie su queste strutture dati e poi andare a riempire lo scheletto della ricorsione. Le strutture dati in questo caso quali sono? Quali scegliamo? Abbiamo usato tante volte la parola insieme. Mi viene tanto da usare un set. oppure una lista. Però in questo caso quali sono le strutture dati? Beh, totale è facile perché sono i pezzi, scusate, sono tutti. Qualunque collection mi va bene, tanto quelli non li modifico, è un dato costante. Durante la ricorsione la vera struttura dati è parziale che analizziamo, vediamo. Cosa devo farci dentro parziale? Devo sapere se un pezzo è già presente. Allora, sapere se un pezzo è già presente dentro un set, fantastico. È pensato apposta il set per dire ci non lo metto o non ce lo metto. Duplicati non li posso mai mettere dentro un insieme. Perfetto, io devo aggiungere nel design degli elementi senza duplicati. Fare una sottrazione tra due set si può fare facilmente. Poi non è detto che dovremmo fare la sottrazione. C'è un metodo remove all che fa la sottrazione tra due insiemi. Quindi, qui devo iterare tra un insieme. Si può fare, tanto non mi interessa un ordine specifico in cui andrò a iterare. Il set non è ordinato, ma non c'è motivo per cui i miei pezzi debbano avere un qualche ordine. Tanto li devo considerare tutti. Quindi, anche qua, devo fare delle somme sugli elementi. L'ordine degli elementi non mi interessa. L'importante è poter iterare su tutti. Quindi, capite il ragionamento che sto facendo. Prima ho pensato a che cosa devo fare con i miei dati, immaginandomeli come foglietti di carta o pezzettini di lingotto da mettere nello design. L'ho descritto e adesso sto andando a vedere che operazioni ci devo fare su queste cose qui. Che tipo di dati devono contenere? Mi serve che siano ordinati? Mi serve che ci siano dei duplicati dentro, che siano supportati o no? Mi serve poter modificare il valore di un elemento dopo che l'ho già messo? Perché non serve, non può farlo. O semplicemente mi interessa metterlo e toglierlo? E sapere se c'è o sapere se non c'è? Ecco. Allora, sulla base di queste considerazioni, di queste analisi, capisco qual è la struttura dati più adatta. Poi, per carità, non è detto che se uso una lista al posto di un set non lo posso fare. Potrò farlo lo stesso. Chiaramente contains in un set a tempo di esecuzione costante, perché basta calcolare la funzione di hash, in una lista deve scandirsela tutta, quindi sarà meno efficiente. E a volte alcune cose devo fare con un ciclo anziché con un metro. Ma ci arrivo comunque alla fine. Sono scelte più implementative forse, però già che ci siamo, già che abbiamo la mappa concettuale fatta su carta, diventa poi più facile scegliere magari una struttura dati che poi ci semplificerà l'implementazione, perché è più adatta al tipo di problema. Per questo non possiamo partire prima di avere le idee chiare a scrivere il codice. Poi l'avvantaggio della ricorsione è che si scrive poco codice. La maggior parte del codice che useremo sarà nella classe pezzi, nella lista, eccetera, eccetera. Poi il codice della ricorsione verrà ci sta tutto in una videata. Non è facile da scrivere, ma perlomeno è breve, avendo le idee chiare su che cosa vogliamo fare. Allora, sfruttiamo l'intervallo per metabolizzare questa impostazione e poi proviamo a implementarla.